Buonasera, ben trovati all'appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Ha aggredito e picchiato l'ex moglie fino a farla finire in ospedale. Protagonista in negativo della vicenda un cittadino marocchino di 40 anni, residente da tempo nell'Interland udinese, che è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza cautelare del GIP per maltrattamenti e lesioni. L'episodio risale a lunedì scorso a Udine, dove l'uomo ha raggiunto in pausa pranzo l'ex moglie, violando un precedente divieto di avvicinamento, e l'ha aggredita, colpendola con pugni al volto e sbattendole la testa sul cofano dell'auto. L'ha minacciata con un coltello, con il quale le ha poi squarciato tutti e quattro gli pneumatici dell'auto. Alla donna, anche lei marocchina, sono stati sottostrati i documenti e l'uomo l'ha rubato anche 800 euro in contanti. Solamente l'intervento di un'amica, posto fine alla violenza sulla donna, costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Le indagini sono state condotte dalle volanti. L'uomo, che oltre ai tre figli, avuti dall'ex moglie e anche padre di due bambini nati dalla relazione con una donna friulana, non sarà espulso. E' sempre in questi giorni, nella bassa friulana, i carabinieri della compagnia di Palmanova hanno denunciato per stalking un italiano di 46 anni che dopo la fine della convivenza con una cinquantenne ha cominciato a tormentarla con atti persecutori, telefonate mute, messaggi, biglietti con velate minacce di morte che venivano lasciati nei luoghi frequentati dall'ex. La polizia di Pordenone, dopo 15 anni di latitanza, ha rintracciato un cittadino albanese condannato a 15 anni e 9 mesi per una serie di reati commessi nei primi anni 2000 e legati al traffico internazionale di droga. Haidini Ari a 40 anni si nascondeva sotto falso nome nel villaggio di Creteci del Sus nel distretto di Vaslu in Romania dopo essere risultato nel 2002 destinatario assieme ad altre 19 persone di una ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di una operazione della direzione distrettuale antimafia di Trieste che aveva portato anche al sequestro di svariati chili di eroina in tutto il nord Italia. Non appena localizzato l'uomo, la procura generale presso la Corte d'Appello di Trieste ha prontamente messo un mandato d'arresto europeo a carico dell'uomo e la polizia rumena, su indicazione dell'Interpol, nelle prime ore del mattino di due giorni fa lo ha catturato e messo a disposizione della giustizia italiana in attesa di estradizione. Una volta in Italia dovrà scontare una pena complessiva di 15 anni e 9 mesi di carcere somma delle pene relative a tutta una serie di reati commessi in Italia. Appropriatosi di un bancomat in modo fraudolento, aveva prelevato contanti per un totale di 500 euro un 57enne di Tarvisio dipendente di un negozio di articoli per animali è stato identificato dai carabinieri della stazione locale grazie alle immagini di videosorveglianza degli istituti di credito dove erano stati effettuati i prelievi l'uomo è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato e continuato e un 22enne udinese è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente dopo essere stato trovato in possesso di 6,5 grammi di marijuana suddivisa in tre dosi raccolte in un vasetto di vetro che aveva nascosto in un giardino vicino alla propria abitazione. Celebrata oggi a Udine la quindicesima unione civile per quanto riguarda il capoluogo friulano a un anno dell'approvazione dalla legge Cirinna a Palazzo d'Aronco si sono unite civilmente 15 copie dello stesso sesso con un primato per il capoluogo friulano rispetto agli altri capologhi di provincia della regione Udine quindi anche considerando il dato in relazione al numero di abitanti è la città della regione dove si concentra il maggior numero di unioni civili anche se i numeri in assoluto sono forse inferiori alle attese quelle di oggi sono state le prime unioni civili celebrate dall'assessore Enrico Pizza che ha voluto pur mantenendo l'assoluto riservo sull'identità della coppia che non ha voluto pubblicità esprimere la propria personale emozione con un post su Facebook anche come fondatore di RC Gay ormai 30 anni fa in quasi tre lustri da amministratore comunale ho celebrato diversi matrimoni ha scritto sempre per scelta degli sposi oggi la prima unioni civile, la naturalezza e lo spirito di accoglienza in piazza e del personale di Palazzo d'Aronco verso gli sposi e gli ospiti è stato uno degli indizi di una società che è profondamente cambiata ci siamo fatti conoscere, ha scritto ancora Pizza abbiamo spiegato, sofferto, vissuto, l'amore ha vinto ed io ero emozionato come gli sposi Voltiamo pagina, sono oltre 100.000 i residenti in Priuli Venezia Giulia che hanno fatto domanda di Isee per ottenere le agevolazioni sociali in base alla propria situazione economica e familiare un numero destinato ancora a crescere che sta intasando i CAF se ne è parlato questa mattina in Sala Iace nel corso di una mattinata di studi organizzata dalla Will Pensionati delle Priuli Venezia Giulia Isee e Isee sono stati raffrontati con ICEF e DURP due strumenti in uso nelle province autonome di Trento e Bolzano che con la nostra regione sono i primi tre posti per la spesa sociale secondo l'Istat l'Isee non deve rappresentare una barriera ma un ponte verso i servizi sociali hanno detto gli organizzatori ha bisogno di maggiore flessibilità e deve essere disponibile ha aggiunto il segretario generale della Will del Priuli Venezia Giulia Giacinto Menis i CAF non riescono a rispondere a tutte queste esigenze si prevede che le domande aumentino anche quest'anno del 20% un cittadino su quattro in Priuli Venezia Giulia utilizza infatti l'Isee per accedere ai servizi sociali curioso in topo alla circolazione ieri sulla statale 13 tra Gemona e Benzone con decine di auto incolonnate in entrambi i sensi di marcia non per un incidente bensì per un nutrito greggio di pecode che all'improvviso ha invaso la sede stradale disperdendosi lungo le carreggiate non curanti dei richiami dei pastori infatti gli animali con tanto di agnellini al seguito si sono mescolati alle auto ferme per brucare l'erba sotto i guardrail e a bordo strade dopo qualche minuto di vera confusione con le auto circondate da questa ondata bianca i pastori e i loro cani sono riusciti a riprendere il controllo del greggio dopo l'oro passaggio la circolazione è tornata alla normalità si è svolta presso la caserma Severino Lesa di Udine sede del terzo reggimento artiglieria della brigata alpina Iule la cerimonia di saluto in vista del prossimo impiego in Kosovo alla presenza del comandante della brigata il generale Paolo Fabri del sindaco di Remanzaco Daniela Brizza e di Conegliano Veneto Floriano Zambon di cui la Iule ha la cittadinanza onoraria i reparti schierati concludono il periodo addestrativo di preparazione l'impiego fuoriare l'esercitazione finale si è articolata in due fasi prevedendo un primo momento in cui il processo di pianificazione sviluppato dallo staff del comando di reggimento e successivamente la gestione e la condotta di specifiche attività tattiche si sono svolte da parte dell'unità di manovra lo staff del comando e la tredicesima batteria del reggimento hanno svolto un'esercitazione per il prossimo impiego nell'ambito del Multinational Battle Group in Kosovo appunto la BCC Carnia Egemonese inaugura il suo quattordicesimo sportello ad Amaro l'obiettivo è quello di garantire alle imprese e lavoratori della zona industriale fino ad oggi sprovvista i servizi bancari inaugurazione del quattordicesimo sportello della BCC Carnia Egemonese Presidente perché è importante questa ennesima inaugurazione? Beh questa è una presenza particolare per noi è il quattordicesimo sportello come ricordava lei ma è il primo che non è ubicato nel centro di una comunità di un paese è ubicato nella zona industriale di Amaro che è uno dei polli maggiori di presenza imprenditoriale e di posti di lavoro in Carnia e quindi con questo noi andiamo a servire due comunità quella del paese di Amaro ma anche quella delle imprese e dei lavoratori che operano in questa zona Tra l'altro in un momento di grande cambiamento anche per le BCC voi mantenete la vostra identità in che modo? Noi abbiamo deciso all'interno dei movimenti che sono in atto nel credito cooperativo di aderire al gruppo che si va formando attorno a Cassa Centrale Banca di Trento è un gruppo che ci permette di mantenere la nostra identità il nostro modo di operare a contatto con le comunità col territorio su cui insistiamo Questo di oggi è il primo concreto servizio alle imprese che viene offerto ed è completo in un certo senso perché dà un'agevolazione a un servizio alle imprese perché c'è una banca sul territorio lì vicina pronta a ogni evenienza ma anche alla componente essenziale delle imprese che sono i dipendenti Noi abbiamo adottato un sistema nuovo di essere vicino al nostro cliente il nostro cliente è l'azienda ma è il lavoratore che è dentro qui siamo in una zona con molti lavoratori abbiamo pensato a loro e quindi le aperture principali saranno negli orari in cui ovviamente i dipendenti sono liberi quindi quando vengono a pranzare alla mensa oppure subito dopo il lavoro inoltre qualora fosse necessario siamo in collegamento diretto con la sede quindi da qui uno può usufruire di tutti i servizi della sede di tutta la consulenza che noi come banca possiamo offrire semplicemente da qui Investire è prerogativa di molti imprenditori che non si pongono problemi se la zona nella quale decidono di avviare la propria attività si trova in montagna la conferma arriva dal Carnia Industrial Park dove il 96% dei capannoni a disposizione è già occupato da attività produttive in seguito a questa attivazione di nuovi servizi di nuove possibilità ci sono richieste di nuovi insediamenti produttivi attualmente? certo 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 noi abbiamo un grado di saturazione della zona industriale sia come fabbricati i capannoni sia come aree che è del 96% una cosa eccezionale adesso stiamo mappando tutte le possibilità di sviluppo che sono anche nelle aree marginali a fianco diciamo adiacenti alle zone tipicamente del consorzio la cosiddetta zona di uno proprio per offrire il più possibile rispondere a queste domande di insediamento che ci sono considerando che il mercato di riferimento all'Europa siamo ancora più vicini rispetto all'Europa per cui rispetto ai confini di riferimento e poi diventa anche un bacino interessante per attingere a quella quota di personale che gravita dalle valli e per cui c'è una possibilità di ricerca di trovare delle figure professionali che possono essere poi formate e fatte evolvere assieme alla nostra azienda per lavorare su un territorio decentrato come magari può essere la Carnia bisogna amare il proprio territorio viverci e quindi essere consapevoli del potenziale Riflettori sulla ciclovia Alpe Adria vediamo non ci sono solamente le due ruote del Giro d'Italia a far parlare i giornalisti in questo mese di maggio anche la ciclovia Alpe Adria ha attirato l'interesse nazionale ancora una volta il quotidiano La Repubblica l'ha dedicato un dettagliato reportage corredato da tante immagini e da una gallery sul sito internet della testata un altro successo per la ciclabile che a settembre scorso vinse l'Italian Green Road Award l'Oscar del cicloturismo ideato e organizzato da Ludovica Casellati di ViaggiInBici.com assieme a Cosmobike Show fiera di riferimento della bici nel bel paese e per Repubblica si tratta davvero di un percorso da Oscar così viene infatti definita la ciclovia nel titolo 180 chilometri dai monti al mare che il giornalista ha percorso interamente il pezzo diventa subito una sorta di guida con le tappe e i consigli il primo prendersi una settimana di tempo per goderne a pieno poi ci sono i cenni a Resiuta a Venzone con la sua lavanda Gemone e San Daniele Udine con la piazza dei quattro nomi la storia di Palmanova è infine grado per tuffarsi in mare al termine di un viaggio a pedali tra gli odori e i sapori di una terra di confine si legge dove la vicinanza con altre culture esalta la vocazione internazionale e la dimensione mitteleuropea che si respira una pedalata dopo l'altra scendendo dalle Alpi Carniche e Giulie fino al Mar Adriatico attraverso le colline moreniche Stiamo lavorando affinché possiate vedere passare il primo treno sulla rinnovata linea Sacile-Gemona a marzo 2018 l'annuncio dall'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Maria Grazia Santoro durante l'inaugurazione della mostra un viaggio a scatti sottolineando che i lavori sono a uno stadio avanzato l'obiettivo ha detto Santoro è di avviare i servizi per fasi a partire dal 2018 anche se stiamo lavorando per anticipare la riattivazione nel cambio orario di dicembre 2017 a San Giorgio di Nogaro grandi professionisti della nostra regione non solo hanno messo in luce le loro eccellenze tra sfilate avanguardistiche suggestive performance artistiche riuscendo a stupire le oltre 600 persone presenti di grande impatto anche il concorso collegato tra design e creatività improntato sugli orologi Laura Coccolo ci siamo visti il 15 dicembre scorso quanti passi sono stati fatti e soprattutto che risultati avete raccolto il concorso è stato per noi un grande successo perché abbiamo ricevuto più di 50 adesioni da tutta Italia e questa sera ne vediamo 7 perché abbiamo selezionato 7 progetti ce n'erano alcuni che erano a pari merito e quindi abbiamo dovuto allargare un po' la forbice rispetto ai 5 che avevamo in previsione voi avete chiesto che cosa? un orologio da redo è un tema un po' diverso sui quali si sono tutti cimentati in maniera più o meno tradizionale più o meno con idee esclusive ma anche rivisitazioni di cose già viste comunque tutti hanno presentato le idee originali che era un po' il motivo per cui abbiamo lanciato il concorso questa volta abbiamo tra i nostri partner il Salone Daniela che ha insieme agli altri partner che fanno lo staff della design e creatività abbiamo organizzato qualcosa legato alla moda non è la classica sfilata però è qualcosa molto carino un'idea assolutamente vincente per mettere al centro non solo la qualità del prodotto ma proprio tutte le idee che stanno alla base del prodotto e quindi la progettualità l'innovazione di volta in volta con oggetti che possono sembrare di uso consueto e quotidiano ma che di volta in volta ci stupiscono abbiamo davvero generazioni nuove e di grandi di attori e soprattutto il prodotto il prodotto di design ha sempre la possibilità di essere reinventato questa manifestazione lo dimostra domani dobbiamo vincere molto chiaro l'obiettivo di Gigi Del Nevi nella conferenza stampa alla vigilia dell'ultima partita al Friuli quella che domani varrà almeno per il 90% il decimo posto contro la Sampdoria niente calcoli dare il massimo ma mancheranno diverse pedine le ultime assenze sono quelle di Widmer e di Perizza in difesa giocheranno come esterni Ali Adnan e Gabriel Silva a destra quest'ultimo a centrocampo De Poliangto al prezzone balici in attacco Terò e Zapata appuntamento tra una settimana per conoscere il mio futuro ho detto poi del nero in chiusura alla conferenza ma la firma per quanto mi riguarda dovrebbe essere cosa scontata ne parliamo a Game On anche con mister Massimo Giacomini il TG invece termina qui e torna domani alle 19 grazie per averci seguito buona serata